perché il vostro compagno che si chiama Matteo ha detto proprio la parola magica ha detto quando noi ricicliamo gli oggetti di carta vuol dire che gli diamo un'altra vita di prendere tutti gli oggetti di carta e portarli nella cartina che è un posto dove la carta viene portata e poi rinventano nuovi oggetti giusto quando un giornale nel cesto finisce ci pensa comieco che mica svanisce allora giochiamo con carta e cartone lasciamo da parte la televisione guardate un po se c'è un oggetto di carta ma secondo voi la carta igienica poi si può riciclare poi un bel giorno qualcuno è arrivato e per il mondo lui mi ha portato il giorno in cui mi ha comperato non aveva ancora 18 anni appena a casa mi ha fermato sulla prima pagina con la penna nella sua scrittura larga ha scritto il nome il cognome la città e la parola